Esiste il patrimonio religioso, esiste il patrimonio civile, esiste il proprio di parte antroposessuale, esiste un sacco di antiempie, per chi vuole l'accento, per cui a me sembra sinceramente un modo, questo per chiamarlo in un altro modo, in un'altra maniera, quello di cui stiamo parlando stasera, in essere parte da mezzo, onestamente, stiamo parlando di unioni omosessuali, cioè a me è da dire tutto, però in una società che non garantisce assolutamente la famiglia protetta, chi parla di altru media è lasciata praticamente sotto, io penso che ci siamo delle priorità, delle strategie, dei sbocchi sociali, dei cosiddetti delitti sociali, io ti faccio anche questo, non sono contrario, ripeto, però a me stiamo affrontando il tema, sono contrario a questa funzione, Grazie consigliere Casano